Nelle prime ore di ieri mattina i militari della stazione dei Carabinieri di San Vitaliano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura catolare messa dal GIP del Tribunale di Nola nei confronti di 13 indagati ritenuti gravamente indiziati a vario titolo di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico commessi a Scisciano tra il mese di settembre 2020 e il marzo 2021. Il provvedimento catolare in questione giunge all'estito di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e condotta dai militari della stazione Carabinieri di San Vitaliano. L'indagine trae origine da un soprallogo eseguito presso un cantiere edile allestito sul territorio del comune di Scisciano per l'esecuzione di opere che il personale in servizio presso il competente ufficio tecnico aveva autorizzato con rilascio di un permesso di costruire il legittimo. Il titolo edilizio aveva ad oggetto il mutamento di destinazione d'uso, da agricolo a civile abitazione, di un immobile di fatto inesistente ed era stato rilasciato pertanto in violazione delle disposizioni della legge regionale sul piano casa. Le successive indagini hanno disvelato le collaudate modalità illecite con cui il personale dell'ufficio tecnico di Scisciano avrebbe gestito il rilascio di titoli edilizi e l'affidamento di appalti pubblici secondo dinamiche clientelari. In particolare sarebbe stata accertata l'indebita percezione di denaro da parte di un funzionario comunale per che agevolasse il rapido rilascio di permessi di costruire e in particolare ne pilotasse l'intero iter burocratico. L'ordinanza ha collocato agli arresti domiciliari l'attuale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Scisciano, nonché il suo predecessore, oggi dipendente dell'ARPA Campania. Ulteriori nove indagati, tra cui un consigliere comunale, sono stati destinatari della misura del divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre a due indagati è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Grazie a tutti.